Io saluto tutti, prego tutti di silenziare i microfoni perché così siamo già 50 persone e sono già le 19.08, quindi io comincerei se siete d'accordo. Io volevo ringraziare innanzitutto, io sono Daniela Gean, sono la presidente di Betty Lell volevo ringraziare Betty Lell stessa per aver organizzato questo incontro secondo me necessario, utile, necessario e bello e volevo ringraziare Olek, consigliere con delega alla cultura che ha pensato a questo ciclo di lezioni ha ovviamente riscontrato subito il nostro entusiasmo ma lui è quello che attivamente ha organizzato tutto ha messo tutto insieme per poter organizzare una cosa che non è affatto facile e ovviamente ringrazio anche la professoressa Ascarelli che è professoressa di lingua e letteratura tedesca all'Università di Siena e che lei comincerà ovviamente questo ciclo che come voi sapete del quale avremo poi altri quattro incontri a scadenza bisettimanale. Come ho già detto prima per altre questioni probabilmente cambieremo i link sarebbe per noi una buona notizia se riuscissimo in questo e questi nuovi link li avrete attraverso la nostra pagina Facebook, attraverso il sito e anche per chi è iscritto alla nostra mailing list anche attraverso la mailing list. e adesso io vi inviterei e io per prima lo farò a spegnere il microfono a dare la parola ad Olek che presenterà questa lezione in particolare e poi forse non so vorrà forse anche dire qualcosa sulle prossime. Grazie a tutti. Grazie Daniela, buonasera a tutti, sono Olek Minzer, avete sul mio nome c'è scritto Alexander Viole che è diminutivo polacco di Alexander così per essere chiari e precisi e magari trovo anche io qualche parente da qualche parte. Mi è successo, mi è successo che a Bettilello ho incontrato mia cugina sconosciutissima americana, dunque può succedere. Allora apriamo il nostro ciclo di conferenze sulla riforma ebraica tra passato e presente da Moses Mendelssohn ai giorni nostri. Lo organizziamo in collaborazione con l'associazione fondata da Roberta, professoressa, dal professor Roberta Ascarelli, INT, che poi lei ci dirà qual è il segreto di queste due letterine. Fra due settimane avremo un incontro con il professor Giuseppe Veltri che ci parlerà dell'ebraismo come scienza e teologia, Leopold Zuntz e Abraham Geiger, professore dell'Università di Hamburgo. Il 18 febbraio parleremo della riforma negli Stati Uniti grazie a uno dei componenti di Bettilello, David Levy, che è docente di filosofia a John Cabot University, direttore della scuola ebraica Giorgio Cohen di Bettilello. Con lui avremo anche il piacere di sentire il nostro amico oppure appartenente a Bettilello, Federico Ariel D'Agostino, cofondatore di Bettilello e del gruppo Maghen David Keshet Italia. Parlerà lui dell'ebraismo ricostruzionista ed ebraismo umanistico. 4 marzo la riforma ebraica in Italia, avremo immenso piacere di dare spazio a conosciutissimo in Italia, Bruno Di Porto, professore in quiescenza di storia del giornalismo e storia contemporanea all'Università di Pisa, dunque collega in qualche maniera, credo di Roberta Ascarelli. 18 marzo la riforma ebraica in Israele ci onorerà il nostro rabbino Joel Ozeran, che parlerà, siccome vive in Israele, sa tutto di tanti paesi, ma noi l'abbiamo chiamato per parlarci di Israele. Brevemente leggerò quello che posso dire su Roberta Ascarelli, che è napoletana di nascita, è ordinaria di lingua e letteratura tedesca per scelta all'Università di Siena. La sua area di ricerca principale è la letteratura austriaca tra 800 e 900 e la letteratura ebraica tedesca. In quest'ambito ha scritto numerosi saggi su autori austriaci, Van de Sieck, Roth, Zweig, Perutz, Canetti, Buber, Hoffmanstahl e Schnitzler. Ha insegnato giudeismo all'Università di Vienna e cultura idice all'Università di Roma, la Sapienza e di Siena, occupandosi soprattutto dell'autobiografia di area ebraico tedesca, da Lichel von Hameln a Freud. Insegna inoltre letteratura ebraica contemporanea nei corsi universitari dell'UCEI, che ci fa molto piacere. In questo campo ha pubblicato saggi su temi legati alla letteratura del sionismo, in particolare all'opera di Herzl. È stata responsabile di progetti nazionali di ricerca di area ebraico tedesca. È stata presidente dell'Istituto Italiano di Studi Germanici. È presidente dell'Associazione per gli Studi Ebraico Tedeschi. È direttore responsabile della rivista DAF Werkstatt. Fa parte dei comitati scientifici di cultura tedesca della Rassegna Messia di Israele e di Austriaca. È stata Wiesing Scholar University di Harvard e Wiesing Professor alle Università di Toronto, Rochester, New York. Vienna è membro dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche, Napoli. Fa parte del Consiglio Scientifico della Fondazione Primoli Roma. Più di questo posso dire che è una carissima amica e mi fa molto piacere di averla qua in apertura del nostro incontro. Parola a Roberta Ascari. Grazie infinite a Olek di avermi invitato. Grazie delle parole di presentazione che tradotte in buon italiano vuol dire come sei vecchia. Cioè hai fatto tante cose perché hai l'età giusta per averle fatte. E grazie anche al Betty Lell che mi ha invitato insieme a Olek e che mi permette di incominciare questa serie importante e interessante di conferenze. Io sono una storica della letteratura e quindi è chiaro che rispetto a Mendelssohn io ho un atteggiamento che è un atteggiamento di critico letterario. Mi interessa molto la sua riflessione religiosa ma mi interessa anche e soprattutto il suo pensiero rispetto ai Salmi di David e ai libri di Mosè che ha tradotto. Ma cominciamo un attimo per ora. Quando Scholem parla della simbiosi ebraica tedesca parla di un fenomeno che è incominciato con un equivoco. I tedeschi, gli ebrei scusate orientali, soprattutto polacchi, fin dal settecento hanno scelto Berlino come luogo di riferimento. Parlo di Marcus Herz, parlo del nostro Mendelssohn, parlo di quel personaggio interessante e strampalato che è Moses May. Perché Berlino? Berlino semplicemente perché mentre a Vienna si iniziava veramente un processo di, come dire, di sviluppo dei diritti o almeno di una cittadinanza, incominciato già con Maria Teresa e poi sviluppato da Giuseppe II con gli ditti di tolleranza. A Berlino invece abbiamo un imperatore, Federico II Hohenzollah, Federico il Grande, un grande combattente, un grande amante della musica e della filosofia, però come dire piuttosto sordo rispetto ai problemi dei diritti al mondo ebraico. Berlino quindi non è il luogo della grande tolleranza, della grande accoglienza, ma è un luogo in cui potevano risiedere pochi ebrei, in cui era molto difficile entrare, in cui era molto difficile avere un lavoro e si rischiava di essere cacciati praticamente ogni giorno. Quindi un'insicurezza di vita totale, malgrado appunto il re si proponesse all'opinione pubblica tedesca e francese, all'amico di Voltaire, fino a un certo punto rimane amico di Voltaire, come il sovrano illuminato, il sovrano della tolleranza. Se noi leggiamo il diario, l'autobiografia di Maimon, vediamo che Berlino era un luogo mostruoso, nel senso che da Berlino viene cacciato, a Berlino c'è una polizia che ha come obiettivo principale quello di controllare eh controllare gli ebrei ehm e però ci torna. Perché ci torna? Mi sembra che sia ehm abbastanza interessante questa pagina della eh autobiografia di Maimon eh perché ci dà un'idea di che cosa poi attraesse il mondo ebraico orientale o almeno alcuni giovani del mondo ebraico orientale verso la grande capitale degli Ohenzollah. Lui era ehm da Dovea di Meseritz, cioè era in uno dei ehm in una corte cassidica, una delle più importanti corti cassidiche diciamo della generazione subito dopo eh quella eh del Baal Shem Tov eh e scappa, scappa perché c'era eh molta superstizione eh molti razionalismo e lui va a Berlino perché eh questo fanatismo suscitò in me il desiderio di andare a Berlino e di annientare con la luce dello studio razionale quanto di superstizioso ancora mi rimaneva. Chiesi quindi congedo. Il signore espresso il desiderio che rimanesse ancora in casa sua e mi assicurò a protezione da ogni persecuzione. Quindi lui eh va ehm a Berlino perché c'è questo mito del dell'illuminismo tedesco che eh come dire che si espande anche al di là eh delle dei confini eh della Prussi. Eh il Berlino quindi attira gli intellettuali ehm ebrei non tanto per la vera tolleranza, non tanto per i diritti, non tanto per le leggi, quanto piuttosto perché viene presentato all'estero come in qualche modo la propaggine dell'illuminismo francese. Il mondo in cui eh è ancora possibile ragionare sulle cose e in cui rispetto eh come dire alla tradizione secentesca si costruiva il mondo della ragione contro il mondo dell'oscurità. Eh all'interno di questo ehm di questo errore in qualche modo si muove la vita dei eh gli ebrei che ehm lasciano appunto l'Oriette per andare a vivere a Berlino e anche la vita di Moses Mendelssohn. Il senso che Moses Mendelssohn eh arriva ehm a eh Berlino nel quarantaquattro per seguire eh un rabbino Frankl molto noto che scappava a sua volta dall'inizio della della diffusione cassidica cioè cercava un luogo eh dove non ci fosse eh una eh un condizionamento eh legato a forme di religiosità nuova che non nuove che non capiva fino in fondo. Nel ehm va nel ventiquattro nel quarantaquattro ehm a Berlino e eh poco dopo eh non solo fa studi rabbinici tradizionali ma eh si innamora della poesia della della filosofia di Wolf. La poesia di Wolf è la poesia leibniziana di sistemazione della ehm della lezione leibniziana ehm applicata a eh tutte le competenze del pensiero umano, della scienza, della bellezza e della filosofia. Quindi sono delle eh una specie di grande repertorio di riflessione razionalista che convince ehm ehm Moses Mendelssohn e in qualche modo gli dà l'idea di trovarsi in un mondo dominato dalla ragione, dominato dal pensiero, dominato dalla filosofia. Ehm quello che racconta eh Salon Maimon del del suo incontro con Wolf altrettanto coinvolgente, altrettanto importante, è molto divertente perché ehm dice che eh a un certo punto trova un signore che rompe eh le pagine di un libro di Wolf per incartare eh delle merci. E allora lui che aveva pochi libri decide di farsi dare questo questo volume, sottrae eh alla eh lacerazione questo libro e incomincia a leggerlo in ore notturne, in ore improbabili e anche lì è un'immensa, grande, sconfinata passione per questo pensiero così lontano dalla tradizione ebraica ma ancora più lontano dalla tradizione cassidica. Quindi fuggono in realtà dal cassidismo ehm fuggono verso il mondo che garantisce in qualche modo una forma di eh di modernità, di modernità, di pensiero. La dicevo prima che la vita di eh Moses Mendelssohn è molto condizionata da eh questa contraddizione eh fortissima del mondo eh di Berlino, del mondo degli Johan Zollern, eh perché da una parte lui ha la possibilità di entrare in una comunità di intellettuali abbastanza presto ehm primo da tutti eh Nessing ehm ma anche anche Nicolai ehm con cui stringe un rapporto molto forte di scambio culturale intellettuale tant'è vero che Nicolai ehm gli propone di collaborare al suo periodico di problemi filosofici ed estetici che si chiama di nove briefe di Noius de Literatur betreffend è un ehm è una di quelle pubblicazioni di gran moda in quegli anni ehm è anche estremamente avanzata per quegli anni e ehm Moses Mendelssohn trova un suo eh luogo di eh come dire per poter esprimere le sue idee per potersi garantire eh come dire anche una permanenza a Berlino cosa che non era per nulla per nulla scontata intellettuale tra intellettuali un mondo separato un mondo in qualche modo eh anche eh tollerato in cui ehm Wolf come dicevo prima ancora il punto questo razionalismo poppedante ehm estremamente prolisso è al centro eh degli interessi ehm ma ehm il problema è che da una parte c'è questo sviluppo forte della partecipazione ehm di Mendelssohn esattamente come Marcus Herz ehm alla vita medico alla vita culturale dell'illuminismo berlinese dall'altra ehm invece ci sono tutti i problemi dei diritti che sono dei problemi che come dicevo affliggono non soltanto Mendelssohn ma ancora di più Maimon e ancora di più gli altri ebrei immigrati ehm ispirato da eh da Mendelssohn si dice ma c'è un tutto un dibattito eh Lessing questo scrittore dell'illuminismo tedesco scrive nel eh 49 un lì un 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 testo teatrale molto breve molto interessante che si chiama di Juden gli ebrei ehm lo scrive lo fa leggere agli amici ma non lo pubblica il che vuol dire che al nostro amico Lessing eh come dire è chiaro che si tratta di un'operazione un po' avanzata un po' incerta che forse eh poteva creare scandalo siccome Lessing di scandali ne creava già tanti rispetto ai poveri genitori che volevano che studiasse teologia e che facesse un lavoro per bene invece lui seguiva il teatro le attrici eh come dire faceva disperare i genitori non ha voluto dare anche questo aumento di dolore con questo dramma questa dramma questo testo teatrale sugli ebrei ehm cerco di riassumerlo brevemente perché mi sembra importante su quella eh come dire quell'utopia culturale e quella mancanza di diritti questa questa tensione tra queste due aspetti molto forti di questa immigrazione ehm liberale di ebrei ehm in ehm in Germania mentre appunto dicevo nell'ottantuno tantadue tantatré Giuseppe II scrive le sue patenti ehm di eh libertà per le altre religioni da piena piena con gli austriaci poi complicato perché è un mondo cattolico però da grande eh libertà eh agli ebrei grandi diritti agli ebrei per tutta una serie di motivi interessanti eh che forse vi dico perché sono divertenti perché siccome c'era bisogno di uno sviluppo industriale ehm gli ebrei assumono questo compito diventano ehm assumono monopoli importanti per esempio le gallette per l'esercito e vestiti per l'esercito ehm e così via e quindi c'è bisogno in qualche modo di sostenere l'ebreismo con i diritti tant'è vero che alcuni come gli Onixberg per esempio vengono nobilitati in assenza di conversione anche Popper vengono nobilitati in assenza di conversione ma questo succedeva in house in ehm a Berlino tutto questo come dicevo eh non non succedeva e ehm alla fine degli anni quaranta del settecento Lessing scrive questo eh questo dramma eh ripeto non è un dramma perché in fondo finisce bene ma insomma quest'opera teatrale la storia è interessante perché pone il problema eh uno dei problemi che oggi cercheremo di attraversare ed è quello della contestazione dei luoghi comuni dell'antisemitismo eh la storia è carina c'è un viaggiatore del Reisend si chiama senza nome e senza cognome il viaggiatore che carico di libri e con eh un servo si avvicina si avvia verso la fiera di Lipsia tutta una storia ebrei alla fiera di Lipsia non ci potevano andare non potevano avere servi cristiani e che andassero in giro soltanto con i libri era piuttosto eh incerto però ehm questo viaggiatore con i suoi libri e con il suo servo che andava verso Lipsia ehm difende un nobile signore perché che era stato attaccato da dei banditi mascherati e che volevano ucciderlo e rubargli i suoi beni. Il nostro ehm eroe viaggiatore viene invita senza nome appunto viene invitato a casa del ehm questo ricco feudatario eh a cui ha salvato le vite e questo signore per gratitudine gli vuole assolutamente dare in sposa la figlia. Il nostro viaggiatore non può prendere in sposa la figlia ehm però riesce a eh smascherare i veri autori che sono due servi mentre tutti dicono che la colpa è ovviamente degli ebrei perché chi è che per le strade aggredisce le carrozze dei signori per ucciderli e rubare loro i beni sono ovviamente gli ebrei e ehm dopodiché alla fine eh come dire dietro l'insistenza di questo gentilissimo padrone di casa che vuole fargli sposare la figlia lui dice no mi dispiace non la posso sposare perché sono un ebreo e la figlia nobile donna decisa dice sì ma a me cosa importa eh il padre però le fa capire che non la potrà sposare e quindi il viaggiatore li prende a fare il suo mestiere che è quello di viaggiare ehm la storia è molto garbata ed è interessante perché non si chiama l'ebreo ma gli ebrei e quindi è un un pezzo di teatro eh a dimostrazione cioè un pezzo di teatro che si vuole opporre ad alcuni forti luoghi comuni dell'antisemitismo gli ebrei non sono quelli che attaccano i ricchi per strada ehm gli ebrei ehm studiano gli ebrei sono colti gli ebrei viaggiano ehm gli ebrei sono cittadini ehm come dire che hanno un loro ruolo attraverso ehm attraverso la Bildung come Rita sa bene la Bildung è l'elemento fondamentale in quegli anni per eh l'ingresso nella ehm nella buona società ehm tedesca quindi il ehm se Lessing eh scrive questo dramma perché ovviamente l'antisemitismo era molto diffuso ma la cosa più bella è che il povero Lessing ha critiche da tutte le parti da una parte gli dicono beh ah gli ebrei così non esistono non esistono ebrei ehm così colti così onesti eh così coraggiosi e dall'altra parte il buon Mendelssohn e qui si capisce già una sua prospettiva ehm afferma una cosa interessante ma quello non è un ebreo eh la le osservazioni di eh di Mendelssohn sono molto pertinenti perché ci portano ad un problema forte eh che è il problema eh dell'assimilazione delle forme dell'assimilazione non è possibile che ci considerino ehm come dire degni di sposare la nobile donna e quindi di vivere come tutti gli altri solo se non abbiamo atteggiamenti ebraici Mendelssohn notava che mangiava con tutti pregava in ginocchio diceva il povero Lessing che non conosceva bene gli ebrei ehm e quindi diceva non è un ebreo reale bisogna combattere per dare invece ehm diritti dignità agli ebrei veri quelli che non mangiano con gli altri come per esempio Mendelssohn quindi il problema eh dell'antisemitismo è ehm molto molto forte e ehm fino a un certo punto ehm Moses Mendelssohn riesce a sottrarsi a tutto questo eh assumendo un ruolo molto importante come appunto il Socrate dell'ebraismo il filosofo eh tedesco l'illuminista di un regno illuminato e in qualche modo anche la foglia di Fico di Federico che usa Mendelssohn per dire come lui aperto tollerante ehm moderno eh appunto e illuminatissimo ehm in realtà ehm la situazione ehm anche se Moses Mendelssohn è estremamente riservato in tutte le questioni che riguardano la religione cerca di prendere posizione meno possibile rispetto alla religione ebraica nel mille e settecentosessantanove ehm accade eh un fatto che eh come dire che rende molto complicata la vita eh di Moses Mendelssohn che avrà una crisi anche di salute rispetto a questo e avrà un forte ripensamento sul suo ruolo rispetto all'ebraismo eh e rispetto al mondo che che appunto che questo ebraismo circonda il mondo dei cristiani nel ehm dicevo tra il sessantanove e il settanta ehm eh l'Affater che tra l'altro viene ritratto insieme da in un in un bel quadro di Moritz Oppenheim insieme a eh forse ve lo posso far vedere no va bene ehm in cui Mendelssohn è insieme a eh l'Affater e ehm e a Lessing mentre la moglie porta del meraviglioso cioccolato e chi di voi ha sentito la cantata su su cioccolato eh di Bach sa com'era importante il cioccolato in quel momento che razza di rappresentazione di stato sociale era cioccolato in in quegli anni ehm il ehm ehm l'Affater interviene in quella che ehm Pessina uno studioso definisce la religione discreta di Moses Mendelssohn dicendogli ehm all'interno di una lettera aperta legata alla traduzione di un libro francese di Bonnet ehm gli dice gli chiede eh di ehm dire ehm se le tesi sulla ehm sulla primazia del cristianesimo teorizzate da Bonnet ehm fossero vere o meno ehm dicendo io spero che tu diventi cristiano la cosa è molto complicata la cosa è molto complicata intanto perché dice che re è nudo nel senso che dice che l'accettazione dell'ebreo è un'accettazione marginale non ehm non completa e dall'altra parte pone a Mendelssohn un problema fortissimo Mendelssohn non aveva mai parlato di cristianesimo parlava di religione naturale non aveva mai difeso l'ebraismo e invece in questo momento è costretto a prendere posizione è costretto a prendere posizione in una situazione drammatica cioè nel senso che se diceva che il cristianesimo era peggio del dell'ebraismo avrebbe avuto grosse ripercussioni in questo stato non liberale tutt'altro che illuminato mentre invece se ehm accettava l'idea che ehm come dire dei vantaggi o delle qualità del cristianesimo avrebbe sicuramente dovuto eh convertirsi quindi una situazione per lui estremamente complicata ed estremamente ehm difficile quindi o una confutazione o una conversione tutte e due i casi ehm Mendelssohn e la sua religione discreta funzionano fino a un certo punto deve prendere posizione eh la posizione che lui prende interessante ed è molto moderna molto moderna perché eh il settecento tedesco viene chiamato anche l'epoca della sensibilità qualcuno di voi ha letto il i dolori del giovane Werther beh dolori del giovane Werther sono tutta emozione e sentimento ecco senza arrivare fino al punto del giovane Werther la sensibilità è contro il classicismo contro le norme contro la tradizione è un grosso segnale di modernità ehm Mendelssohn decide allora di difendersi dalla Werther dicendo che lui ha nel cuore la religione ebraica che lui non discute di religioni perché la religione ebraica la religione che lui ha nel sentimento è la religione dei padri ed è la religione che gli dà felicità e questo tema della felicità è un altro tema fondamentale perché la religione sulla terra teorizza Lessing eh teorizza anche Lessing ma teorizza Mendelssohn è quella di garantire la felicità su questa terra io sono felice nella mia religione ehm il eh quindi ho una convinzione nel cuore se no perché rimanere legato dice a questa religione condannata vista male esecrata in pericolo se non ci fosse l'adesione del mio cuore contemporaneamente ehm si difende dicendo che la religione ebraica non è una religione che fa proseliti lui non deve come dire proclamare la bontà della religione ebraica per il semplice motivo che non ce n'è motivo ehm cita passi del Talmud ehm e della sacra e della Bibbia eh per giustificare eh questo questo atteggiamento questa presa di posizione e eh soprattutto ehm lui sostiene che la nostra religione rimane una cosa per noi è la religione che ci è stata ehm rivelata ma mentre la religione rivelata in generale è uguale per tutti gli aspetti rituali le norme sono quelle rivelate solo a noi e per noi queste sono assolutamente fondamentali per il resto tutte le religioni sono religioni naturali le religioni del libro sono religioni naturali quindi i dieci comandamenti rispecchiano degli obblighi naturali che la natura impone all'uomo i dieci comandamenti ehm come sottolineava Cohen sono già scritti nel cuore scriveva già eh era già scritto nel libro di Mosè ma lo ripete con con grande forza sono già scritti nel cuore dell'uomo perché sono nella natura umana quindi diceva non so se mi sono spiegata insomma è l'idea di hm di Mendelssohn per scappare da questo da questa strada piuttosto difficile ehm e con scarse uscite quella ehm di dire la religione è una religione del cuore non è una religione in cui si fanno delle scelte non devo spiegare niente a nessuno perché non voglio fare proseliti o sono tutte le religioni del libro sono religioni naturali quindi che impongono all'uomo quello che è già scritto nel cuore dell'uomo e contemporaneamente però ehm noi abbiamo delle regole delle leggi che sono quelle che sono state date a noi e che noi ehm rispettiamo quindi il ehm il ehm a questo punto ehm direi che eh propone eh due piani una religione universalistica per le confessioni monoteiste soprattutto per cristianesimo ed ebraismo e invece una eh religione privata se noi leggiamo un altro testo di Lessing Lessing accompagna molto la riflessione di ehm di Mendelssohn e che ehm è nata Nassaggio che ehm che scrive nel 79 nata Nassaggio a un certo punto c'è la parabola ehm del Decamerone di Boccaccio dei Tre Anelli la situazione è complicatissima perché eh ancora una volta abbiamo un ebreo che è le sette meraviglie non c'ha un difetto neanche uno neanche a volere eh ha solo un piccolo problema che si è preso una bambina eh che è cristiana e l'educata da ebrea cosa che crea qualche scompiglio eh in una Gerusalemme all'età delle crociate ma ehm poi finisce tutto in una serie di agnizioni spericolate per cui alla fine ognuno è fratello di un cristiano di un di un ehm di un maomettano eh c'è l'ebreo che è perfetto insomma un gran pasticcio all'interno di questo delizioso pasticcio in cui Nathan è più perfetto di tutti i perfetti eh c'è però il saladino che ha bisogno di soldi per fare le guerre eh perché per le crociate ci volevano morti e soldi e ehm e che vuole chiedere al ricchissimo Nathan un sacco di soldi allora ehm gli lo chiama e cerca di ingannarlo esattamente come aveva fatto l'affater con Mendelssohn dicendogli ma tu che pensi qual è la religione migliore? nel dramma di Lessing si ripropone esattamente il tema la questione che aveva posto l'affater la risposta di ehm di Nathan è secondo me ancora più moderna più legata al cuore ai sentimenti di quella che dà il filosofo Mendelssohn ed è grosso modo questa la leggenda dei tre anelli un gran signore ha tre figli vuole bene a tutti e tre ehm tanto in questo caso è un borghese nella se non era un re c'è una variante eh nel racconto e ehm quello a cui avrebbe dato eh l'anello avrebbe eh avuto non solo l'eredità ma la coscienza di essere il più amato tra i tre figli che fa il padre eh fa fare le copie dell'anello e da ehm ad ogni figlio tre figli tre religioni rivelate eh da ad ognuno dei tre figli l'anello identico a questo punto i ehm tre figli litigano eh ovviamente e vanno dal giudice ehm il giudice gli ditte va bene tornate tra cento anni era un giudice con lunghe aspettative di vita e gli dice tornate tra cento anni e ci eh chi di voi ha avuto la riuscita migliore è stato più buono eh ha fatto cose più buone è il figlio prediletto eh a questo punto il Saladino non può più rubare i soldi non può più prendere i soldi a Nathan però Nathan ha la possibilità di dire i tre anelli sono uguali ma quello che mi ha dato mio padre per me è fondamentale quindi la catena delle generazioni si sostituisce a quel discorso del cuore molto estetizzante che aveva fatto Mendelssohn rimango ebreo perché questo mi hanno insegnato perché io preferisco lo dice chiaramente quello che mi ha insegnato mio padre piuttosto che quello che ha insegnato a te tuo padre in questo modo il problema della primazia viene in qualche modo meno ma ehm tra l'altro c'è un altro problemino nel senso che nell'ottantuno muore Lessing e Nicolai ehm attacca Lessing perché era spinozista essere spinozisti voleva dire ehm come dire essere eh abbastanza tendenti all'ateismo quindi essere cristiani così eh ma in realtà essere legati alla religione appunto della natura eh alla religione panteismo religioso di Spinoza cosa che allora andava molto male perché si andava in galera diretti e ehm e quindi questa accusa in qualche modo a carezza tocca anche il nostro Mendelssohn che è un po' spinozista si è scoperto dopo in realtà lo era. Ehm quindi il ehm tutto questo porta ehm a dei problemi a Lessing ehm a Mendelssohn molto forti a una crisi eh personale e alla fine capisce che questa dimensione di come dire eh di ambiguità questa religione discreta questo stare sul confine eh non può andar bene non può andar bene perché in qualche modo per un ebreo in un mondo come quello era necessario avere uno strumentario più forte lo strumentario che propone Lessing eh scusatemi continuo a a confondermi lo strumentario che propone Mendelssohn è uno strumentario legato alla building una building dalle due parti da una parte ehm un libro che è molto citato il libro di di Dom eh va di Bueger lì che farbbe essere un deiuden da una parte ehm un un libro scritto da un funzionario pulsiano sotto indicazione di Mendelssohn che dice che gli ebrei devono studiare devono vestirsi bene devono comportarsi come tedeschi parlare come tedeschi cioè l'idea di una formazione borghese degli ebrei che garantiva agli altri di non considerarli diversi quindi una specie di ehm come dire di via verso l'assimilazione eh che eh lo stato prussiano a questo punto eh sembra accogliere eh ma dall'altra parte ehm ma questo non basta ehm in questi anni eh come dire di disagio lui propone due progetti che sono due progetti per me importanti perché ehm sono quelli più legati alla letteratura e sono la traduzione ehm dei libri di Mosè in tedesco ehm e la traduzione dei salmi di David contemporaneamente la scrittura di Jerusalem e la traduzione eh di un ehm di Vendice Judeaorum cioè di una ehm di un pamflet del secento inglese di Menasse ben Israel che poneva alcuni principi fondamentali eh sull'antisemitismo ehm incomincio da quest'ultimo il la ehm la ehm la rechtfertigung der Juden di Menasse ben Israel poneva alcuni problemi eh fondamentali volevano cacciare gli gli ebrei dall'Inghilterra lui scrive per dire come poi ripeterà dopo eh in Jerusalem Moses Mendelsohn che è il dovere del del sovrano garantire la vita eh a tutti i cittadini allo stesso modo accogliere nella nazione tutti i cittadini in quanto cittadini non in quanto esponenti di una religione che la cosa fondamentale è il comportamento da cittadini non la sfera privata questa divisione tra la sfera privata e la sfera pubblica nel seicento devo dire mi sembra eh 1652 mi sembra un elemento estremamente moderno ed estremamente importante ma quindi non si tratta di una grazia ma si tratta di un dovere del sovrano e il cittadino viene valutato ripeto non per la sua religione che è cosa privata ma per il rispetto delle leggi ma questa è solo una parte del vindice Judeaorum di ehm di ben Israel la cosa che interessa di più eh Moses Mendelsohn è quella eh della ehm delle forme del del dio di Israele si dice è una volgata abbastanza diffusa che è il dio eh che non conosce ehm grazia ma solo vendetta il dio severo la religione è una religione severa la religione è una religione che non garantisce la famosa felicità di cui parlava Moses Mendelsohn rispetto a questo ma nasce ben Israel dice che invece la religione ebraica la religione eh della misericordia la miseria e la regione dell'aspetto dell'accoglienza di quel cuore in cui Moses Mendelsohn aveva collocato la sua fedeltà al mondo ebraico è importante è importante perché che eh Moses Mendelsohn traduca eh questo saggio vuol dire che lui pone non soltanto il problema della tolleranza ma anche il problema della riscrittura del del giudizio del pregiudizio sul mondo ebraico il mondo ebraico non è il mondo della barbarie rispetto al mondo moderno non è il mondo della severità contro l'amore non è il mondo della preclusione al cuore contro il cuore ed è un tema importantissimo in quegli anni perché in quel modo lui porta una perequazione solo dei temi cardine del cristianesimo e anche delle critiche che i cristiani fanno nei confronti ehm degli ebrei quindi eh il mondo ebraico è un mondo di giustizia ma è un mondo di ehm di sentimento eh di affetti di bontà di gioia la traduzione di ehm Moses Mendelsohn ehm devo dire crea un grande eh una grande polemica chi non ci voleva credere non ci vuole credere eh fatto sta che lui subito dopo fa questa doppia traduzione ehm perché fa questa traduzione e che cosa vogliono dire queste due traduzioni insieme da una parte fino a questo punto mi state seguendo? Ci sono domande? se ci sono domande rispondo volentieri per cui va bene vai benissimo continua noi avanti allora il ehm quindi questa traduzione è un modo per porre ripeto alcuni problemi fondamentali che sono una riscrittura della percezione del mondo ebraico ehm ma questo non basta a Moses Mendelsohn traduce per chi traduce? Cosa traduce? L'operazione della traduzione della Bibbia è un'operazione vecchia in idish ci sono fin dal cinquecento moltissime traduzioni in idish della Bibbia quindi tradurre la Bibbia per chi non conosce più l'ebraico per chi non conosce non può più leggere i testi è un'operazione fondamentale di pedagogia un'educazione di educazione eh soprattutto delle donne e dei parciuti ma Mendelsohn pubblica una tese una una traduzione in tedesco ma in caratteri ebraici che è un'operazione ambiguissima polemiche dal mondo gli volevano addirittura lo volevano addirittura dare un herem cioè volevano addirittura cacciarlo per questa operazione perché non si tratta di una traduzione di servizio in idish perché così qualche donna un po' analfabeta riesce a capire qualcosa si tratta di un'operazione intellettuale in cui un grande intellettuale tedesco un filosofo tedesco traduce in tedesco in un tedesco meraviglioso la Bibbia con le ehm con le lettere ebraiche che cosa vuol dire eh vuol dire che lo scrive per gli ebrei ma soprattutto lo scrive no lo scrive soprattutto per gli ebrei ma lo scrive anche per i molti traduttori della Bibbia perché nella seconda metà del settecento tradurre la Bibbia era diventata una specie di operazione corrente ehm ci sono moltissime traduzioni della Bibbia anche molto belle come quella di Kramer di cristiani in genere protestanti che da lui cambiando l'utero modificando l'utero eh aggiornano la traduzione luterana della Bibbia eh ma lui lo fa quindi per quattro addetti ai lavori per fargli vedere come la sua traduzione è la più bella perché è una traduzione bellissima e dall'altra parte lo fa per gli ebrei perché lo fa per gli ebrei perché devono imparare il tedesco perché devono imparare un buon tedesco perché c'è questo problema del eh dell'essere come gli altri dell'assimilazione tant'è vero che c'è Hug che nel duemila e undici scrive un libro molto bello sull'invenzione dell'identità ebraico tedesca dicendo che in fondo quest'idea di assimilazione parte proprio della traduzione della Bibbia eh fatta da luterano l'idea e il messaggio è molto corto è molto netto ehm voi dovete essere fieri della vostra tradizione salvaguardare la sacralità e l'importanza delle vostre lettere non c'è bisogno che eh spegniamo parole su questo è chiaro ma contemporaneamente dovete essere in grado di patroneggiare un tedesco che è un tedesco moderno che è un tedesco della sensibilità che è un tedesco in qualche modo preromantico e che è eh un tedesco eh che parla direttamente al cuore e qui torniamo al tema eh di prima quindi questa è la prima operazione molto forte ed è l'operazione di dom appunto l'operazione di fare in modo che gli ebrei entrino nella cultura tedesca uno delle accuse che viene fatto tra otto e novecento a Moses Mendelssohn che senza Moses Mendelssohn il sionismo sarebbe andato molto prima e molto meglio perché la strada che lui indica è la strada della ehm assimilazione eh e lui la indica con questa traduzione veramente meravigliosa ma non gli basta la cosa più geniale che Mendelssohn scrive ovviamente la cosa più importante è Jerusalem e in Jerusalem c'è tutta una riflessione importante sempre sul tema del ehm io come cittadino eh devo rispettare le leggi ehm non mi può discriminare in quanto ebreo ma soprattutto una cosa deliziosa cioè un vero sovrano illuminato non è quello che tollera i suoi sudditi è quello che coltive e accetta la diversità il tema della diversità in Jerusalem è fondamentale ed è un tema talmente moderno che è quasi commovente gli ebrei sono diversi il sovrano si deve fare carico proteggere difendere e in qualche modo come dire accentuare il valore di questa diversità un po' moderno forse il il re di Prussia non era in grado di capire ma la la riflessione era estremamente avanzata estremamente importante l'altra cosa scusatemi poi ritorno alla traduzione che in Jerusalem lui dice un colpo da una parte un colpo dall'altra è i rabbini il rabbinato non deve non ha diritto questo è un elemento fondamentale non ha nessun diritto di ehm legiferare sui comportamenti ehm pubblici diciamo delle persone e quindi eh tutta la legislazione garantita dal mondo prussiano per cui molte cose erano erano i rabbini che potevano decidere anche l'espulsione dalla comunità che voleva dire anche espulsione dalla comunità laica tutto questo su tutto questo le eh Mendelssohn ehm impegna eh capacità eh conoscenza e molta vis polemica perché per lui è lo scandalo del periodo da una parte garanzia dei diritti in un mondo illuminato dall'altra ehm separazione nettissima tra i miei comportamenti borghesi civili e i miei comportamenti religiosi non so se è chiaro ma è molto forte infatti dove si muoveva faceva un vespaio però poi in qualche modo riusciva sempre perché era molto c'è Taubes che su di lui parla appunto di questa reticenza era capacissimo di arrivare fino al limite ma poi non dire le cose che avrebbero fatto troppo scandalo cioè questo rimanere sempre in qualche modo sul confine rimanere sempre al di qua dell'esplicitazione quindi ehm gli ebrei devono cambiare devono formarsi gli ebrei devono diventare tolleranti nelle cose che non riguardano la religione un cittadino e cittadino religioso sono due sfere che non devono assolutamente ehm come dire eh andare a conflitto ma ehm con la traduzione dei salmi lui fa un'operazione molto più ehm azzardata e molto più interessante ehm nell'introduzione quattro pagine modeste modeste in cui proprio scrive come se fosse eh l'ultimo della classe incomincia dicendo io avrei voluto tanto dare a Ramle un signore un poeta eh da vedere eh la mia traduzione però non me la sono sentita non volevo dargli fastidio Ramle è il rappresentante dell'ortodossia poetica lui era un traduttore di Odi era il traduttore di Odi eh Mendelsso non gliele dà prosternato chiedendo scusa ma non gliele dà non ammette che ci sia qualcuno che dà una pulita formale alle sue Odi come aveva fatto Lessing con Ramle come facevano tutti i con Ramle le mie Odi non hanno bisogno di eh miglioramento formale perfetto in più io le ho pubblicate le ho tradotte non nel loro ordine ma le ho tradotte secondo lo stato d'animo e torniamo al tema dello stato d'animo secondo l'emozione del momento e invito il lettore a prenderle anche lui ognuna secondo il suo stato d'animo a leggerle con il cuore non con la forma che cosa vuol dire tutto questo le traduzioni sono molto belle sono molto belle anche se fa dei cambiamenti radicali inserisce un coro anche quando non c'è eh inserisce tutta una serie di come dire di spazi dell'animo di respiri eh di punteggiatura che apre ma la cosa fondamentale è che ehm lui eh in questo modo e soprattutto mettendo a postazione le lezioni a Oxford di un signore che si chiama Loft e che scrive proprio sulla poesia degli ebrei pone un tema fondamentale che Herder aveva un po' accennato la poesia degli ebrei e quindi i salmi di Davide non sono un'opera primitiva dello spirito umano non sono all'origine della poesia moderna non sono un'opera barbarica che poi in qualche modo ha fondato rimaneggiamenti e miglioramenti successivi la poesia la vera poesia quella che ha l'entusiasmo quella ispirata da Dio quella che parla all'animo eh la poesia eterna la poesia che non ha bisogno di forma non ha bisogno di metri anche se lì c'è tutta una riflessione sui metri ebrei che vi risparmio anche perché è difficilissima da capire anche per chi ci ha lavorato per molti anni ehm il tema fondamentale è che non si tratta della poesia eh delle origini ma della poesia del delle origini del presente e del futuro è la poesia dell'uomo è il livello più alto di poesia possibile quindi se da una parte lui dice ai suoi correligionari ebrei guardate ragazzi miei dovete imparare il tedesco guardate ragazzi miei dovete cercare di raffinare il vostro modo di rapportarvi con la grande cultura appunto Kant, Bohr, Leibniz, Shetbury cioè la grande cultura del tetto dall'altra parte però avete dentro di voi una potenzialità che di cui non vi rendete neanche conto. La poesia degli ebrei è la poesia eterna dell'uomo. Nei termini di ehm del conflitto con con l'Affater che è il punto fondamentale di questa sua riflessione e della riflessione di tutti gli anni metà 70-80 è un approdo fondamentale. Un approdo fondamentale perché ehm Lessing ehm perché Mendelssoh ehm non si limita come fa eh nelle come dire nelle nelle dichiarazioni ufficiali a nascondersi a dissimulare a cercare strade di compromesso perché non venga fuori eh né il suo spinozismo e neanche la difesa dell'ebraismo contro il cattolicesimo ma è qualcosa di molto di più. A livello di poesia c'è una fierezza dell'essere ebreo c'è una consapevolezza dell'importanza dell'essere ebreo che passa attraverso la poesia anche perché ritorno ai miei dolori del giovane Werther che potrebbero forse aiutarci a capire tante cose. In quel periodo ehm rispetto alle norme eh alle regole formali rispetto al coce rispetto proprio al ad un mondo che si costruiva sulle regole francesi con ritardo se vogliamo eh c'è un nuovo mondo importato dall'Inghilterra che sta arrivando e che impone un nuovo tipo di poesia che non è la poesia della forma non è la poesia delle regole non è la poesia del ben costruito e soprattutto del regale ma è la poesia dell'anima umana. Allora l'operazione di ehm di Mendelssohn si innesta da protagonista e in qualche modo da vincitore all'interno della distruzione eh della eh della tradizione della tradizione classica delle forme. Rispetto alle forme noi mettiamo il cuore. Quindi se la religione ebraica è una religione naturale se la religione ebraica è la religione dei miei che io non devo difendere perché è lo Stato che deve difendere la mia possibilità di essere se gli ebrei devono entrare da protagonisti nella vita tedesca conoscendo fino in fondo assimilandosi fino in il mondo germanico contemporaneamente dobbiamo in quanto ebrei acquisire eh una coscienza di noi che nasce dalla idealizzazione della nostra tradizione che non è la tradizione delle regole che non è la tradizione ehm come dire dei precetti ma è questa grande capacità di vivere a contatto con un altissimo che non è l'altissimo e qui si riconnette ehm a Menasse ben Israel non è l'altissimo della punizione del rigore ma è l'altissimo che fa cantare David è l'altissimo che crea poesie e quindi su questo eh si costruisce una idea di un rapporto tra mondo ebraico e mondo eh tedesco ingannevole almeno quanto la figura di Federico II Hohenzollern che però ehm si pone su due piani anzi su tre piani primo piano la emancipazione del mondo ebraico eh non dalla tradizione religiosa delle regole ma da un potere eccessivo secondo Mendelssohn che ha irrabbinato sulla vita civile delle persone eh sulla vita civile vuol dire tutto quello che sono contratti tutto quello che sono eh giudizi tutto quello che sono esclusioni dall'altra parte una cittadinanza tedesca che nasce sulla Bildung sulla ehm sulla Bögerlichefer Besserung sul miglioramento borghese degli ebrei ma anche sulla consapevolezza di non essere eh come dire dei cittadini di seconda classe ma di avere molto da dare eh allo Stato al re e soprattutto alla poesia tedesca io avrei finito se ci sono domande sono molto contenta grazie grazie infinite Roberta abbiamo imparato che c'erano due Mendelssohn e Lessing e non bisogna confonderli comunque no no ti perdoniamo assolutamente intanto intanto mi fa piacere che hai parlato anche tanto di Lessing è base anche della storia del teatro non solo di storia ebraica eh eh questo che 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 intanto ti ho chiesto di di prima di 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 spiegare meglio eh che quale è lo scopo e come nasce la 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 tua associazione che è come dice voi co co organizzatore di 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 questi eventi senti grazie infinite la prima è la prima occasione in cui ci presentiamo abbiamo fondato un'associazione di studi ebraico tedeschi siamo in tanti che ci occupiamo di mondo ebraico tedesco e ci sembrava che avere un'organizzazione per incontrarci discutere vedere quali sono ehm gli argomenti eh che oggi possono essere eh più significativi e più importanti eh poteva essere una una buona cosa siccome Mendelssohn in fondo è ebreo e di adozione ma convintamente eh tedesco ci sembrava che potesse essere un buon eh un buon inizio quindi grazie infinite Oleg di averci dato questo come dire questo 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 bell'inizio questo questa questa bella eh celebrazione c'è molto piacere guardando la sigla queste due lettere int mi viene in mente che forse dentro dentro c'è proprio Mendelssohn che scrive in ebraico la Bibbia la traduzione in tedesco esatto cioè scrive in tedesco con i caratteri ebraici allora vi rendete conto la fatica che ha fatto questo personaggio meraviglioso con capacità intellettuali fortissime eh come dire partner intellettuale dei filosofi più importanti tedeschi di quel di quel periodo per mantenere un equilibrio per essere accettato cioè una un'operazione veramente da prestigio eh che 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 è abbastanza inquietante che ci dà però veramente il quadro di come fosse difficile in quegli anni eh come dire prendere parola senza smentire il fatto di essere ebrei anche fuori dalla comunità ovviamente anzi tra l'altro il povero Mendelssohn ha avuto molti problemi con il mondo rabbinico cioè ce l'aveva ce l'avrebbe avuti anche se rimaneva in in ambiente cassidico ovviamente non era il suo non sarebbero capiti però in quello eh tradizionale eh come dire la situazione era estremamente complicata la la cosa che mi preme di 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 sottolineare è che perché abbiamo scelto Moses Mendelssohn come prima personalità eh parlando della riforma ebraica di cui in qualche maniera non hai parlato ovviamente perché ancora non è stata inventata però 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 senza senza le basi le basi dell'illuminismo ebraico e dunque il suo rappresentante più illustre Moses Mendelssohn non ci sarebbe stata la riforma ebraica come come conosciamo noi perché anche chassidismo era una specie di riforma ebraica ma non 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 è stato inglobato dentro l'ortodossia e perché parlo di questo perché perché sono polacco e tu e tu hai 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 fatto ricordare che comunque quel quell'ebraismo che c'era in Germania aveva fortissime radici collegamenti con la Polonia oltretutto eh citato da te eh Salomon Maimon eh si considerava ebreo polacco cioè un vero polacco con le radici polacche ero colpito che c'è questo sentimento di di essere polacchi eh eh essendo ebrei profondamente e che che essendo anche io ebreo polacco mi sembrava una cosa molto moderna del ventesimo secolo addirittura magari la Polonia in quel periodo era veramente un macello perché c'era ehm c'era non c'era soltanto Salomon Maimon ma c'era anche Jakob Frank ehm e c'era il cassidismo cioè è e tutto va a finire tra Austria e Germania eh nel senso che Frank va a vivere a Ulfbach e ehm no i cassidimi rimangono un po' lì eh i i più tradizionalisti vanno a finire quasi tutti a Berlino insomma devo dire che la Polonia fa emigrare un sacco di personaggi interessati sì allora qua abbiamo nostra nuova amica Ariella che ci dice che i discendenti di Mendelssohn si sono assimilati sì è vero ma alcuni sì alcuni altri no comunque puoi rispondere a questo ragione Ariella si sono assimilati tutti ehm il libro il libro di Oddio eh sulla famiglia Mendelssohn Rita chi l'ha fatto dai quello di Potsdam Scherps Scherps il libro di Scherps come dire racconta tutta una serie di particolari poco edificati sulla famiglia però eh diciamo che Mendelssohn Bartodi ha musicato i più bei salvi della 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 ripeto della la musica eh tedesca con tra l'altro un'attenzione ad alcuni salmi che sono anche quelli su cui il nonno eh aveva riflettuto di più quindi c'è un come dire ehm convertiti ma ehm molto legati a questa dimensione ebraico tedesca che poi il padre aveva aveva sviluppato e tra l'altro le femmine soltanto dopo che è morto il padre vero vita le femmine sono sono convertite solo dopo la morte del padre guarda eh come sai alcuni figli si sono convertiti altri no quindi Abraham il padre di Felix Fanny era convertito ma altri figli sono rimasti invece ebrei ed è molto interessante seguire veramente la generazione per ora mi sto occupando un po' di fotografi ebrei naturalmente e e beh il figlio di Felix Mendelssohn Paolo Mendelssohn era chimico e è stato uno dei fondatori dell'agfa sì però era era cristiano eh sì 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 certo già il padre Abraham si era si era convertito c'è proprio il conflitto rimane per molte la contattazione rimane per più generazioni mi permetto di dire che però avendo un padre o un nonno così beh scappare non è un problema soltanto di ebraismo è un problema di come dire di importanza della figura e quindi si scappa anche da figure così credo abbiamo abbiamo una 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 premessa di promessa di domanda da parte di Laura Quersoli Minzer privatamente mia moglie che vorrebbe chiedere probabilmente probabilmente lo vorrebbe chiedere direttamente lei non 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 si sta perlesando ma sono qua non mi vedete io ora si allora domandina molto scema e probabilmente a Roberta mi manderà via dall'associazione ma tant'è allora questo questo volevo sapere secondo te e magari anche secondo Rita questo discorso della della traduzione della Bibbia in in ebraico e tedesco in tedesco ebraico eccetera poi in che relazione si pone al discorso della della ebraizzazione del tedesco che fa Buber niente no non c'è secondo me Laura il percorso il processo è molto diverso nel senso che in qualche modo Buber vuole ritornare a quel punto cioè vuole ripartire da quel punto la traduzione che voleva fare con Rosenzweig e poi appunto sai come va è una traduzione come dire che non presenta elementi ebraici anzi come tra l'altro de Villa ha meravigliosamente dimostrato ci sono tutte le parole della destra romantica della destra nazionalista quindi come dire è un è tedesca proprio non voglio dire da Bluton Boden ma ma quasi cioè le parole che usa sono le parole di Goerres e quindi questo non c'entra niente con l'operazione che invece fa Moses Mendelssohn che è un'operazione come dicevo prima del cuore cioè una un'operazione dell'enfinza in una confezione che però richiama con forza gli ebrei al loro alla loro possibilità al loro dovere di di assimilarsi no io penso che l'operazione è un'operazione quella di Buber è un'operazione come dire strabica che guarda contemporaneamente ai tedeschi del tempo e agli ebrei del tempo nel senso che vuole dimostrare che i tedeschi che gli ebrei hanno tutte le parole del romanticismo tedesco il che vuol dire poi un riferimento forte a Herder un riferimento molto forte all'antropologia romantica o preromantica insomma un'operazione molto più anche ambigua ma infatti ho letto anch'io l'articolo di De Villa e pensavo più alle alle cose alla 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 sua traduzione interpretazione germanizzazione dei racconti dei casi ah beh quello è tutto un altro discorso Laura che a quello non alla Bibbia no ma quello tra l'altro è una cosa che arriva come sai benissimo arriva prima in un momento diverso della riflessione di Buber ehm arriva quando mh come dire questa dimensione romantica romanticheggiante gorressiana di destra eh la applica ad un mondo che è gorressiana di destra e quindi la traduzione è splendida no direi che sono due discorsi diversi ehm ti presto il libro perché ehm quell'articolo è un pezzo di un librone che ha scritto Massimiliano con tutte le parole che usa Buber devo dire inquietante devo fare e peraltro scusa eh scusate scusi Laura scusa scusami Laura un attimo che c'è un signore che che voleva devo fare due domande sono Sandro da Firenze ciao Roberta ci siamo visti a Camaldoli non so se due domande eh Leibniz è stato criticato moltissimo da da Voltaire e da tutti quali sono i rapporti fra Mendelssohn e la filosofia di Leibniz dunque allora lui ehm non è un leibniziano lui si definisce un Wolfiano il che vuol dire che ehm Wolf fa una sistemazione di tipo come dire in cui tutti gli aspetti eh radicali della filosofia di Leibniz eh vengono sedati quindi è un'idea che attraverso delle strutture razionali si può capire il mondo si può capire l'uomo si può capire eh soprattutto questo destino di felicità che è la cosa che lui in qualche modo prende da questa rielaborazione volpiana di Leibniz ehm dopodiché però come dire che ci troviamo in un mondo perfetto eh che ci troviamo in un mondo come dire ben costruito perfettamente costruito in un in una come dire in una volontà divina eh di ehm di equilibrio tra le parti questo Mendelssohn lo dice continuamente cioè lui è convinto che la creazione sia un'operazione ehm come dire sistemata e perfetta ecco non arriva a dire che è il più grande matematico però sicuramente è il più grande filosofo il l'altissimo è una seconda domanda che riguarda un po' la famiglia Mendelssohn perché mi sembra che già Abraham si trasferisce a Hamburgo come mai si sono trasferiti a Hamburgo perché Hamburgo era più tollerante era più aperta sicura allora dunque eh la eh Hamburgo ma in genere eh tutta la parte di Altona tutta la parte in in di confine con la Danimarca che poi è anche parte eh come dire contesa una volta stata una parte una volta stata l'altra era estremamente tollerante aveva una traduzione ehm di grande eh apertura e di non discriminazione Hamburgo è anche eh un un luogo strano di rabbinato perché da una parte mh sono due rabbini di Hamburgo eh che eh decidono eh che i cristiani non hanno molti dei ma come dire che possono essere considerati monoteisti e sono i rabbini di Hamburgo che creano tutti i problemi sulle ehm come dire su su sugli amuleti quindi con tutta una serie di critiche di problemi cioè è anche un centro ehm come dire estremamente vivace di vita ebraica ma la 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 tolleranza è basta leggere ehm sempre Rita eh le memorie di Grucke von Hammerin ehm con tutti i problemi che c'erano dalla fine del seicento è viene considerato rispetto ad altri luoghi veramente un piccolo paradiso cioè un luogo di di crescita sociale di tolleranza nei limiti del possibile ovviamente eh grazie vedo qua eh ancora due due eh domande rispetto alla famiglia di di Mendelssohn c'è Elisabetta Ziviak eh che che eh dice che si si trattava di una specie di sincretismo cristiano ebraico questo lo dicono che ci fosse una sorta di marranesimo lo dicono lo dicono lo dicono in molti ma no è diverso scusa se posso marranesimo quando si ritorna alle radici ebraiche antiche o si continua la tradizione qua no qua il figlio che crea una specie di non è tutto palese credo non è no no ma quello che volevo dire un ebraismo mh intimo ehm questa era un po' l'idea cioè nel senso che un ebraismo personale intimo eh ah in questo senso marranesimo ok nell'intimo sì sì che non fa parte come dire dei comportamenti dei comportamenti quotidiani questo è molto possibile allora eh sì per per rispondere ancora su su che cos'è la riforma della la la risposta del signor Ventura mi fa venire in mente che eh come come funzionava ebraismo ortodosso italiano eh più o meno come ha definito che cos'è la riforma adesso è la situazione diversa ma qualche decennio fa sicuramente era proprio così mi sembra mi è stato raccontato così conciliazione di queste due elementi eh allora eh se non ci sono altre domande io con di propenderei per per la conclusione eh per per ringraziamenti a tutti a a a Roberta Ascarelli e l'associazione I am eh grazie eh eh prima di tutto anche di 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 Betty Lel che che ha una è una è una piccola comunità ma organizzata eh eh bene che 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 senza questo questo lavoro collettivo non saremmo riusciti sicuramente a a a incontrarci qua eh allora eh se se Daniela Daniela se vuole dire qualcosa o o o o le che io non ho niente da aggiungere a quello che dici tu oltre che ringraziarvi è stata una lezione molto molto interessante e la professoressa ci ha preparato il terreno ovviamente per la prossima lezione eh ci sarebbe veramente da fare tantissime altre domande ma insomma eh penso che sono le otto e mezza ma abbiamo tutti famiglia abbiamo tutti fanno magari ci facciamo solo promettere dalla professoressa Ascarelli che magari in un'altra occasione eh magari di persona nei prossimi mesi che chissà con un pochino di fortuna può venire a rispondere a tutte le domande che sono rimaste senza risposta ecco io ne ho sacrificate quattro no no per chiarità no volevo dare la precedenza agli altri ma io sono sicura che avremo modo di rivederci e di eh e di parlare di queste e di altre domande ringrazio tantissimo lei Ole che poi davvero tutta la comunità che ci sostiene in queste pazzie per insomma nell'organizzazione di queste cose quindi saluto calorosamente tutti e veramente a Hazak ecco una cosa non da assimilati la volevo dire arrivederci allora grazie grazie a tutti grazie a tutti